Grazie Alcune date non sono soltanto date Alcuni oggetti non sono soltanto oggetti Alcuni incontri non sono soltanto degli incontri Alcuni viaggi non sono soltanto dei viaggi Alcuni viaggi non sono soltanto dei viaggi Alcuni viaggi Alcuni viaggi Alcuni viaggi Questa è la luce Il posto era veramente qualcosa fuori dal comune Ed era sudore di una fatica di cui non era valsa la pena Ed era sudore di una fatica di cui non era valsa la pena E non è che noi ci impuntavamo in uno scoglio E ci fermavamo lì Cercavamo di remare dall'altra parte O fermavamo più forte Comunque si può superare uno scoglio E lì ho capito questo Quella sera a Lovo abbiamo ricevuto la prima accoglienza bosniaca E la accoglienza è stata una cosa che è una cosa veramente eccezionale Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici Un po' di un paio di srpska Grazie a tutti 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 Grazie a tutti